Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo l'antica Lixula sabina, da Varros, la lingua latina, scritto nel primo secolo, prima della era Comunera. Iniziamo con gli ingredienti, necessitiamo l'amore, l'acqua e il cibo sabino. Prendiamo l'acqua, poi necessitiamo l'alpha kilo di l'amore, 250 grammi di acqua, due piccoli di salto e abbastanza acqua per ottenere un cibo sabato e semplice, ma abbastanza forte per essere formato in due righe. Prendiamo l'acqua in maniera. Inoltre a Varro, Lixula è un termine sabino che significa il stesso come la latina Circuli, che è una preparazione cereale fatta con l'amore, l'acqua e l'acqua. Circuli lixolas sono anche menzionati in Ateneus dei Pnosophisti. Circuli riferono alla forma. Sono formati come rini ugualmente formati. Anche l'autore aggiunge che le lixole sono raffinati, e spesso preparati dai sabini. Le lixole possono essere grandi o piccoli. In effetti, Varro scrive su lixole e semi lixole, aggiungendo il prefitto latino semi al vero sabino, significando qualcosa come l'alfa lixola. Questo passaggio della lingua latina è molto importante, non solo da una perspectiva culturale, ma anche perché è un record della continuità delle tradizioni dei sabini nella cultura romana, grazie al lavoro di un autore patriciano come Varro, venendo dalla città sabina di Rieti. I sabini erano tra le popolazioni che formavano l'occasione originale di Roma, e il reso sabino, Titus Tazius, regnò su Romulus per cinque anni, sulle tradizioni di tradizione di Titus Livi. Non per menzionare che alcuni dei primi regni di Roma erano sabini, come gli importanti gentes romani. Inoltre, i conflitti tra i sabini e i romani hanno spiegato durante i secoli, fino alla fine conquista del terzo secolo prima dell'era Comunera, e la concessione della città romana per tutti i sabini. Non c'è tanta informazione sull'elixule, excepto la descrizione della forma e la lista degli ingredienti, anche se possiamo fare alcune assunzioni razionali sulle proporzioni tra gli ingredienti e la preparazione. L'elixule, inoltre a Varro, sono praticamente formati, quindi possiamo regolare l'uso di un molde. Per questo motivo, non possiamo aggiungere troppo cheese, altrimenti non potrebbero mantenere la forma del regno. Inoltre, è necessario aggiungere qualche agente di lievito, perché senza una grande quantità di cheese, questo pane sarebbe inedibile. formato la pasta in due ringe, lasciamo restare per me oltre un'ora, e cuocerano in olio per circa 25 minuti. L'elixule è inoltre in strada storica, ma il pane di lievito è molto raro nella cultura antica. possiamo usare diversi tipi di lievito, il pane di lievito, il pane di lievito, la griglia di lievito, fresca o tagliata con la mille o il pane di lievito, o anche un pezzo di pane di lievito, che resta da parte del giorno precedente. Nella descrizione sotto, trovate una serie di video con alcuni dei tipi più comuni di agente di lievito. per sapere più sul pane di tutta la storia, guardate il nostro nuovo libro Le ricette italiane cereali, pane, pasta e pia, che contiene 114 ricette dall'antiquità all'inizio della rinascenza, accompagnato da un'introduzione alla storia dei cereali in Italia durante l'analisi delle risorse primarie sulla cucina e la dieta, con un'esplanazione delle preparazioni basiche e degli ingredienti usati nelle ricette. Questo libro è il secondo nella serie di ricette italiane, ma tutti i volumi sono indipendenti e possono essere scelati in ogni ordine. Il primo libro è dedicato a vegetali, frutta, erbe e flore nella cucina storica. Per sapere più sull'antica, c'è il nostro libro La cucina di Roma antica dove trovate non solo ricette le ricette le ricette originale, ma anche le informazioni su ricette antiche, le tecniche di preservazione, la farmacia storica e gli ingredienti. su Patreon trovate articoli sull'antica storica e la tradizione di ricette come la Recoquinaria e le ricette del Cato dell'agricoltura. Trovate una lista di tutti i nostri libri sull'antica storica nella descrizione sotto, con i link per acquistare una birra e acquistare il nostro mercato. del Cato Delixole avevano un sapore delicato di cheese e erano deliciosi, soprattutto quando freschi dall'esterno. L'avevamo con oliva e cheese come un segno di mattina, ma sono anche perfetti come un appetizio, aggiornati con piacere come patina di lettuce o muscoli, o come percorso. in qualche modo si ricordano il Buccellatum, ma anche se questo pane militare è pensato di essere difficile e non contiene cheese. Tornare questo pane antico è un modo fascinante di essere in conto con un passato lungo perduto e rediscogliere le tradizioni delle prime popolazioni italiane. Trovate i link ai video per preparare Buccellatum, patina di lettuce e muscoli nella descrizione sotto. Se siete interessati in alimenti e sapori abbiate il nostro canale e considerate il supporto in Ozone Patreon.